Siamo tornati, pausa brevissima, siamo tornati Tommaso, carissima Pina, sempre con il nostro Simone al nostro fianco, ma adesso vi introduciamo nell'universo dell'arte contemporanea collegata ai giovani, Pina lo facciamo con un nostro graditissimo ospite, che ci vuole tanto bene noi a lui, Francesco Ricci, professore, bentornato. Grazie, buonasera, buonasera a tutti i presenti. Buonasera a tutti i presenti, ma prima di darle parola però io vorrei introdurre la tematica con un servizio che racchiude questi due temi, quello del museo e dei giorni. Allora, lo ascoltiamo professore e poi lo commentiamo insieme a lei. Quando si pensa ad arte giovani, la prima domanda che ci si pone è se la scuola stia facendo tutto il possibile per fare interessare a una disciplina così articolata come l'arte contemporanea. Sempre al centro di polemiche, la gestione manageriale e della comunicazione dei nostri musei è considerata da molti una delle cause dello scarso interesse dei giovanissimi. Certo, non è cosa facile amministrare un museo, specialmente in Italia. Le spese sono elevatissime e, in buona parte, destinate a coprire le perdite in tema di conservazione e assicurare un lungo futuro a ciò che costudiscono. Negli ultimi anni si sta assistendo a un ringiovanimento delle attività dei musei d'arte, per fare in modo che gli studenti e gli under 18 si avvicinino a questo settore. Le iniziative spaziano da workshop, attività ludiche e seminari per poter avvicinare le scolaresche e i giovani all'arte, soprattutto quella contemporanea, con cui si spera di appassionare il pubblico più acerbo. La sfida delle istituzioni culturali italiane dovrebbe focalizzarsi su un obiettivo, avvicinare i giovani al museo e farli appassionare in modo autonomo al mondo dell'arte, portandoli di conseguenza a preferire una visita o una mostra piuttosto che l'ennesima giornata al centro commerciale. Forse sarà proprio questa missione che porterà in futuro una più ampia fetta dei giovani italiani a visitare un museo più di una volta all'anno. E questo non può che essere considerato un obiettivo di primaria importanza per il paese, perché il domani sarà sempre in mano ai giovani. Professor Ricci, allora lei lo sa bene, scuole, musei giocano un ruolo chiave all'interno del processo educativo dei giovani, ma come mai, professor Ricci, questi luoghi, musei, sono poco visitati dai giovani? Cerchiamo di fare anche un commento a questo servizio. Ma è un servizio molto interessante. Sì, è vero, i musei sono poco frequentati, purtroppo i numeri sono impietosi. Ora, io credo che il bisogno di bellezza, al pari del bisogno di giustizia, sia un bisogno che ci appartiene, un bisogno dell'anima che qui precede ogni educazione e formazione, far risvegliarlo. Come risvegliarlo nei più giovani? Beh, io credo che le attività ludiche, workshop, ciò che insomma era indicato nel servizio, siano la strada giusta. E poi, in particolar modo, riuscire a parlare ai giovani, ad arrivare ai più giovani. C'è poco da fare. Oggi i ragazzi, anche molti degli adulti, non leggono i quotidiani, non leggono le riviste, però sono in rete, sono sui social. E non è un caso, io credo, che i musei che tutto sommato riescono più ad attrarre i giovani, perlomeno a dire ai giovani cosa stanno facendo al loro interno. Siano musei, mi permetto di fare qualche nome, come ad esempio il Maxi di Roma, oppure Palazzo Strozzi a Firenze, che insomma hanno una grande confidenza anche col digitale. Professione, c'è qui in studio Simone che sta annuendo. Tu Simone, di solito vai a visitare le arti, le sei, le opere di arte. I luoghi d'arte. Sì, io ho la fortuna di avere anche una serie di conoscenze di amicizie strette che lavorano e vivono nel mondo dell'arte e quindi è anche una scusa ulteriore, un po' per essere trascinato all'interno. Sennò i tuoi amici poi ti vengono a cercare. Sì, poi, siccome corrono molto più veloce di me, non riusci mai a scappare. Però ci fai volentieri, dai. Sì, no, certamente. Lo fai volentieri. Sì, sì, molto volentieri. Però allo stesso modo apprezzo moltissimo tutte quelle strutture, tutti quei musei, tutti quei luoghi d'arte che permettono una digitalizzazione delle loro opere, che permettono anche a persone vistanti o che non hanno la possibilità di muoversi fisicamente, di poter comunque godere e vivere dell'arte che possiedono. Ecco, professore, questo è un tema interessante perché effettivamente arte digitale ultimamente stanno andando un po' a braccetto, ma secondo lei più che mai è necessario che questo rapporto possa essere ancora più stretto per avvicinare i giovani alle arti? Ma sicuramente anche perché diciamo che il lungo periodo pandemico con la chiusura dei musei ha consentito agli appassionati d'arte di poter avere accesso alle opere soltanto attraverso questo canale. Non dimentichiamoci inoltre che l'epoca che noi stiamo vivendo è l'epoca dell'immagine e questo vale soprattutto per i giovani. Quindi come dire, una certa confidenza con tutto ciò che è iconografico, loro l'hanno, bisognerebbe lavorare su questo versante, cioè far comprendere ai giovani che sì è bello vedere un dipinto, un affresco in digitale attraverso il digitale, ma lo è ancora di più se quel dipinto, quel affresco vengono goduti di quella che è la loro sede naturale e che è appunto il museo. Questo è un punto importante perché effettivamente è un po' più complicato portare il ragazzo al museo, ma ci sono tante strade, professore. Secondo lei, quali sono le strade nelle quali bisognerebbe maggiormente investire? Ha citato l'istruzione, ma secondo me, mi permetto di dire, anche un po' il rapporto genitore-figlio deve essere un po' incentrato sulla sensibilità artistica. È d'accordo, professore? Sono perfettamente d'accordo, Tommaso. Tanto è vero che parlando con alcune guide mi dicevano che quando hanno a che fare con dei gruppi, magari anche dei gruppi piccoli numericamente, i risultati migliori è quando si crea un rapporto tra la guida, l'esperto e i visitatori che riproduce un po' quella confidenza che può esserci appunto tra genitore e figlio. Può sembrare sciocco, ma è già rivolgersi al visitatore, al giovane, chiamandolo per nome. Questo chiaramente lo puoi fare se il numero è ristretto aiuta. E poi certo, un altro elemento che contribuisce non poco è se l'aria, la buon'aria della cultura viene respirata in famiglia. Questo è il miglior viaggio. In fondo tutti abbiamo cominciato a visitare i musei, magari un po' sbuffato con i nostri genitori. Però qualcosa rimane sempre della visita, al di là dell'atteggiamento un po' scocciato del ragazzo. Lo diceva anche De Gregorio, qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scuole. Dovevo dirlo, scusate. Dovevo dirlo, dovevo dirlo. Simone, tu hai qualche domanda al professore? Sì, io volevo dire che intanto mi trovo perfettamente d'accordo con le tesi, tanto che io ho iniziato ad avvicinarmi all'arte grazie a mia madre, che per anni ha potuto lavorare come curatrice di mostre d'arte. E quindi è stata la prima a portarmi anche dietro le quinte un po' delle gallerie. Molto, molto fortunato. Volevo chiedere al professore una domanda magari un po' insolita, un po' cortodossa. Volevo chiederle qual è la sua opera d'arte preferita. Che bello. Io da, devo dire, da buon romano non posso non favorire Villa Borghese a Palazzo Borghese, c'è il ratto di Proserpine ed è per me la statua più meravigliosa che sia mai stata concepita dall'uomo. Ma che bravi questi ragazzi. Qual è per lei? Ne ne vado, ne prendo i fogli e me ne vado. Professor Ricci, allora, la sua opera d'arte preferita, qual è? Difficile, è difficile rispondere perché voi mi conoscete, io più di una volta ho detto, parlando della letteratura, ma lo stesso vale per la storia della pittura o della storia dell'arte, che in arte siamo tutti infedeli, abbiamo tutti diversi amori. Beh, io devo dire che da un punto di vista della scultura amo molto Rodin e dall'altro lato è un movimento che è quello degli impressionisti francesi che continua a catturare la mia attenzione, cioè se devo comprare un catalogo, un libro o visitare un museo, bene o male vi ritrovo sempre là dove c'è Monet, Manet, Cezanne. Forse, e mi ricollega a quello che diceva Simone, perché mio padre e i primi pittori che mi ha fatto conoscere sono stati gli impressionisti e mi è rimasto questa ammirazione per la loro rivoluzione, no? Che meraviglia. Professore, lei cosa ne pensa delle nuove tecnologie, anche proprio dei linguaggi per avvicinare i giovani alla cultura? Perché non dobbiamo negare che alcune volte mi capita di parlare con dei ragazzi e mi dicono, beh, sono entrato in un museo d'arte e ne sono uscito con idee poco chiare. Ah, questo è un problema. Esatto. Cerchiamo di capire quali sono allora in prospettiva le competenze necessarie per poter capire cosa si ha davanti, cioè letteralmente così. Certo, certo. Io credo che insistere troppo su un'analisi semplicemente iconografica del dipinto alla lunga non sortisca un buon effetto, cioè bisogna che chi accompagna il visitatore tenda a collegare quel dipinto magari a quello che è il movimento culturale del dominante di quel periodo, oppure anche a istituire un collegamento tra una scuola ed anche una città, cioè com'è che la scuola del colore si è affermata proprio a Venezia, oppure cosa c'è dietro al passaggio dal romanico al gotico, cioè andare oltre il semplice studio di quella che si chiama un po' la grammatica dell'opera, che pure va conosciuta il volume, la linea, il colore, la superficie, però è un discorso troppo tecnico che non allarga i confini dell'analisi a quello che è il contesto culturale, sociale, beh credo che alla fine finisca per distogliere ma non solo il ragazzo ma anche l'adulto, poi magari il ragazzo mette le cuffiette, mentre l'adulto inizia ad annuire in questa maniera ma in realtà esattamente altrove. E quindi credo che la bravura delle guide di chi conduce appunto alla lettura di un'opera sia decisiva. Meglio se questo lavoro poi viene fatto anche dagli insegnanti di storia dell'arte, nell'aula ovviamente. Questa cosa professore, e poi c'è la parola a te Simone, è una problematica che personalmente ho riscontrato nel mio cammino accademico, anche da ragazzo, un po' questo essere asettico dell'arte, un po' decontestualizzato, preso e lanciato. È corretto secondo lei professore parlare di umanizzazione dell'arte, cioè renderla più vicina all'essere umano, anche un po' portando la storia del quadro, della scultura, dell'artista per avvicinarlo all'ascoltatore, al semplice uditore o a chi guarda l'opera d'arte? Certamente dietro un dipinto, così come dietro un romanzo, una poesia, non dobbiamo mai dimenticare che prima di tutto c'è un autore in carne russa. E quindi niente più deleterio della lettura, della guida alla lettura di un romanzo, di un dipinto, facendo finta che questo si sia quasi prodotto da solo, senza risentire di quelle che sono le virtù, ma anche i vizi, le debolezze dell'artista. E allora parlare anche dell'uomo che è dentro l'artista sicuramente aiuta, ma questo è un giudizio mio, a comprendere meglio il risultato finale, quel romanzo o quel dipinto, ma dall'altro lato anche a coinvolgere proprio dal punto di vista dell'essere umano il pubblico. Simone, vai. Io in realtà sono stato preso perfettamente in contropiede perché volevo proprio puntare il dito su questa umanizzazione dell'arte, dell'artista soprattutto. Ma noi ci capiamo. Siamo sulla stessa linea. Perché in realtà quello che, su cui volevo mettere appunto l'accento, era la mancanza di una storia legata all'arte. Mentre l'arte visiva perde molto rispetto agli anni passati, la narrativa, la letteratura invece ha ancora molta più forza. Quello che vedo mancare è appunto un motivo, una storia, un perché che invece nella letteratura è ancora molto, rimane ancora molto ancorato e che nell'arte visiva non si riesce a trasmettere bene. Con molti coetanei quando si vanno a raccontare un po' di dietro le quinte, un po' di storie anche ricche di disagio dell'artista stesso o di sporcizia degli elementi negativi, subito trovano molto più interessante tanto l'artista quanto l'opera d'arte. Vede professore, è d'accordo con l'analisi del nostro Simone? Perché effettivamente un po' ci ritorniamo sul concetto di storia. Quanto è legata la storia all'arte, professore? Dunque, non dimentichiamo che perlomeno fino al Rinascimento, fino al Cinquecento, la gente poteva vedere quasi come prassi quotidiana un dipinto di Leonardo o una scultura di Michelangelo, cioè il prodotto degli artisti viveva lì in mezzo al pubblico. Poi è nata la stagione dei musei e questo ha contribuito anche a guardare all'arte, all'artista come un qualcosa di elitario, di lontano. Nel momento in cui noi invece richiamiamo l'attenzione sull'uomo Caravaggio o sull'uomo Van Gogh, mi torna il discorso di Simone, ecco che noi torniamo in un certo senso a portare l'arte in mezzo alla gente e la togliamo dal museo, che è un luogo, c'è poco da fare che continua, soprattutto nei più giovani, a suscitare un timore reverenziale. Come mai, secondo lei, professore, questo timore che ancora esiste oggi? Perché il museo, la casa delle musee, viene naturale associarla ad una cultura fondamentalmente l'Italia, come non ci fosse stato nel frattempo anche la pop art, non ci fossero stati dei movimenti che invece hanno cercato di dimostrare, anche in maniera certo polemica, è un qualcosa alla portata di tutti quanti. Purtroppo il museo, e dico purtroppo, rimane, ce lo dicono i numeri, un qualcosa di elitario per pochi. Quando torno a dire l'opera d'arte contiene in sé una bellezza che, a prescindere da quella che è l'educazione e la formazione, tutti possiamo apprezzare. Poi è chiaro, io mi dico non sia importante conoscere quella che è la tecnica di lettura di un'opera. Può essere goduta all'opera a vari livelli, ma questo è accaduto da sempre per l'opera d'arte, fin dai tempi dei poemi omerici e della loro trasmissione orale, quindi voglio dire riguarda qualunque disciplina artistica. Però intanto, se recuperiamo i ragazzi, ha una fruizione anche piuttosto immediata, semplice, a un primo livello dell'opera d'arte, ecco che quel bisogno di bellezza che è il loro, lo risvegliamo. Poi la famiglia, la scuola, anche certi programmi televisivi possono fare la loro. Noi ci proviamo. Ma secondo lei esiste una relazione tra la scarsa propensione proprio dei giovani a visitare i musei, per esempio i costi d'accesso. Professor Ricci, lei cosa ne pensa? I biglietti sono troppo cari secondo lei? E questo è il vero problema? Ma Pina direi proprio di no. In fondo è 25 anni che c'è una politica che prevede una rinnovazione nei musei per chi ha sotto dei 25 anni. Non sono certo i costi esagerati, ma più che altro sono gli stessi giovani. 92 giovani su 100 ci dicono no, io non vado al museo non perché costa troppo, ma perché non mi interessa, perché non mi fa voglia. E quindi bisogna riconquistarli in altro modo. Direi che quello del costo del biglietto non è assolutamente il problema principale. Una domanda che volevo fare al professor Ricci è proprio legata a questo linguaggio social dei ragazzi che si avvicinano sempre di più ai luoghi d'arte attraverso la fruibilità dei canali social. Il caso Chiara Ferragni che va agli uffizi e gli uffizi poi diventano il museo più visitato ancora di più al mondo grazie all'arrivo della nota influencer è emblematico. Forse, professore, l'arte passa poco attraverso i social? Questa è la domanda. Ma Tommaso, si tende ancora a separare molto il mondo dei social dal mondo ufficiale della cultura. Io ho visto e ho seguito con grande interesse l'operazione perché occorre molta concretezza. In questo momento è importante come non mai, credo, andare oltre a quella civiltà dell'immagine che però è connotata dalla rapidità. In un minuto quanti stati, quante immagini trascorrono davanti ai nostri occhi. E allora riabituare invece ragazze a tempi medi e lunghi che richiede, ad esempio, la visione di un dipinto. Quindi benvenga se una Chiara Ferragni o tutti quelli che riescono a parlare quei giovani, ad arrivare al cuore dei giovani. Da questo punto di vista io sono perfettamente d'accordo con Vittorio Sgarbi che ha visto di buon occhio questa operazione. Purtroppo in Italia c'è un atteggiamento un po' presuntuoso di guardare dall'alto in basso proprio da chi cultura la fa, da chi vive in questo mondo, da chi è dietro agli eventi artistici, alle mostre. Allora gli pare quasi di contaminare il sacro e il profano, ma come? L'icona dei social associata agli uffizi, al museo, uno dei musei più apprezzati e più visitati al mondo. Ma in realtà se può essere l'occasione per portare più giovani ai musei benvenga. È un po' come la questione che fu sollevata a suo tempo per il grande successo di Benigni con la commedia. Come no? Nella bellissima piazza a Firenze, no? La cosiddetta piazza Dante. Tu Simone cosa vuoi aggiungere? Io mi trovo... Aspetti professore che c'è una domanda del nostro Simone. No, no, io mi trovo perfettamente in linea anche perché quello che è oggi il social più popolato, più grande, è proprio Instagram che fa dell'arte visiva la sua forza. Sicuramente legato anche al mondo dei viaggi, anche al mondo degli animali, ma moltissimi, centinaia di migliaia sono gli artisti che costruiscono il proprio percorso su Instagram, proprio approfittando dell'estrema, dell'estremo elemento visivo del social. Invece cosa ne pensi degli influencer che pubblicizzano i luoghi d'arte? Ma io sono contentissimo perché tutto fa brodo, nel senso non esiste una pubblicità negativa e ovviamente ci sono dei soggetti che portano, che riescono a veicolare meglio un messaggio, che vengono ascoltati di più. È sempre esistito, esisterà sempre e se questi soggetti si mettono a disposizione non della multinazionale X di turno, che per carità, per guadagnare lo fanno, certo, però che si mettono anche a disposizione dei luoghi d'arte, di luoghi di cultura per poter rivitalizzare e portare un po' di traffico, è sicuramente assolutamente positivo. Insomma il pensiero del nostro Simone è chiaro, però professore, visto che siamo quasi in chiusura, a me una domanda sorge veramente spontanea, ma i suoi studenti cosa le dicono sul tema? Se ne parla in classe? Insomma, quali sono le idee che circolano tra i suoi ragazzi? Sì, se ne parla perché io appunto tra l'altro vivo a Siena che è già un gioiellino e vicino a Firenze, tutto ciò che evoca questo nome. E appunto due studentesse mi parlavano della loro esperienza qualche giorno fa a Palazzo Strozzi, dove c'è una bellissima mostra di Jeff Koons, quindi di un autore contemporaneo. Ecco, in genere il contemporaneo è un terreno vergine per il semplice fatto che a scuole programmi in genere non l'aggrediscono mai. E invece mi raccontavano che certo i giovani non sono tanti, rispetto agli stranieri, ad esempio, rispetto alle persone di una certa età, però è una mostra che è andata molto bene, perché? Perché ha funzionato molto il messaggio online, quindi pubblicizzare l'evento, presentarlo ai giovani attraverso le immagini, sui social. D'altra parte bisogna essere concreti, pragmatici. Oggi è Instagram, è Facebook e tanti altri social, quelli che sono la casa per tanti giovani. Ed è lì che li dobbiamo prendere, acchiappare, se no li abbiamo persi definitivamente. Quindi mi sembra di poter dire che il futuro dell'arte sicuramente passa attraverso i social. Sicuramente sì. Diciamo che è stata un po' la sintesi di questa chiacchierata, professore. Noi veramente la ringraziamo perché grazie alle sue risposte abbiamo fatto un viaggio sia nel mondo artistico che coinvolge i musei, ma anche e soprattutto abbiamo cercato di capire come i ragazzi e gli studenti interpretano il linguaggio di Erno. Professore, noi la ringraziamo e a presto. Grazie di cuore, come sempre. Grazie di cuore. Grazie davvero, professore. Insomma, è finita questa puntata di Futuro Lavoro, di già, però i ringraziamenti doverosi vanno al nostro Simone. Grazie a voi per l'esordio. Io ringrazio te sempre, Pina. Grazie a te, Tommaso, il mio compagno di viaggi, come sempre. Grazie davvero, l'ottima Rachela Beiani in cabina di regia, sempre ottima nella scelta delle immagini. Noi ci vediamo qui tutti i mercoledì. Perché come sempre, prossima settimana, avrete una nuova puntata di Futuro Lavoro. Ciao.